Estra acquista dal gruppo Alexa di Isernia il 100% di Metania e Melfi Rete Gas, due società molisane rispettivamente attive nella vendita di energia elettrica e gas e nella distribuzione di gas. Estra sperimenta a Prato il 5G con due progetti su videosorveglianza e internet delle cose nell'ambito del progetto di Wind3 e OpenFiber per lo sviluppo di servizi innovativi a forte impatto socio-economico. Risultati eccellenti ad Ascoli Piceno e a Siena del progetto di alternanza e lavoro di Energicamente, il laboratorio scolastico ambientale promosso da Estra e Lega Ambiente. L'energia di Estra è on air su Rai Radio 2 per The Voice of Italy, il talent musicale di successo che giunto alla quinta edizione si è rinnovato per infiammare ancora di più la competizione. Estra affianca la trasmissione perché il talento e le sfide fanno parte del studio di Energia.